Abbiamo presentato il Gianduiotto, quello che speriamo sarà il Gianduiotto Torino IGP, la nocciola Tonda Gentile delle Langhe, quanto guscio ha? Più del 55%, i gherigli, le fave di cacao selezionate per fare il cioccolato, poi la nocciola diventa gheranella come il cacao, zucchero di canna e poi abbiamo nel finale il Gianduiotto Torino IGP. E questo all'Enei perché è un Gianduiotto fondente. Grazie a tutti.